Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, in direzione Livorno, e rallentamenti tra Empoli e Montelupo Fiorentino, in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est, in direzione Firenze. In A1, in direzione Roma, rallentamenti per incidente tra il bivio con la variante di Valico-Bacchiraia e Firenze Nord. Per lavori di pavimentazione, giovedì notte, in orario 22.6, sarà chiusa l'uscita di chiusi per chi proviene sia da Bologna che da Roma. A Firenze, sul Ponte Vespucci, lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra, arriva anche la pista ciclabile. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!